Top and flop dei dati a Uitele di ieri, martedì 17 settembre. Al top va registrata la partita di Champions League, Napoli e Liverpool andata in onda su Canale 5. L'accordo tra Sky e Mediaset per mandare in chiaro le partite della Coppa Europea sta dando ottimi frutti, tant'è vero che ieri la partita del Napoli contro i campioni in carica del Liverpool ha registrato 4 milioni e mezzo di spettatori, quindi davvero un ottimo risultato e per noi è al top. Secondo posto per Rai 1 con la strada di casa, la seconda stagione della Fiction che si è difesa molto bene raggiungendo 3 milioni e 800 mila spettatori che insomma con una partita così di cartello non era assolutamente garantito come risultato, invece è molto bene la strada di casa 2. Terza piazza di martedì, il talk show della 7 con Giovanni Floris. Flop, il flop invece è stato per noi il Canale 9 che con la seconda edizione del Supplente completamente uscito dai radar e nella classifica dei programmi più visti della serata è molto in fondo al diciottesimo posto dietro anche piccole reti digitali verticali, ha raggiunto a malapena l'1% di share, quindi per noi per una rete a vocazione generalista con un'ottima posizione del telecomando l'1% è davvero troppo poco, quindi per noi il flop il Supplente sul 9. Mi ricordiamo che tutti i dati di ascolto, le analisi e le curve Auditel di ieri le trovate sul sito tvzoom.it e noi ci rivediamo domani. Grazie a tutti.